Per venire incontro a coloro che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze nella città di Agropoli e per facilitare gli abituali fedeli del posto, sono stati resi noti gli orari delle sante messe nei giorni feriali e festivi su tutto il territorio comunale per i mesi di luglio e agosto. Per la chiesa Madonna di Costantinopoli nel centro storico, le celebrazioni sono previste alle 19.30 per i giorni feriali e il sabato e alle 8.30 e 20.45 per i festivi. Per la chiesa di San Francesco la messa si terrà alle 19.30 nei giorni festivi e alle 20.45 l'ultima domenica del mese nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, sita sempre nel centro storico. Per la chiesa Santa Maria delle Grazie in Piazza della Repubblica invece, le messe sono previste per le 8.30 e le 20, sia nei giorni feriali che il sabato, mentre nei festivi si svolgeranno agli 8.00, 9.30, 12.00, 19.20 e 21.00. Le celebrazioni presso la parrocchia di Sant'Antonio in zona Moio si terranno invece solo nei festivi alle 18.30. Per le chiese di San Valeriano e del Sacro Cuore nei pressi della stazione ferroviaria, le funzioni si svolgeranno agli 8.30 e 19.30 nei giorni feriali e il sabato, mentre per i festivi gli orari sono le 7.30 e le 9.30 per la prima parrocchia, 19.30 e 21.00 per la seconda. Le funzioni sono previste alle 18.30 per la chiesa della Madonna del Carmine, sia nei giorni feriali che il sabato, mentre nei festivi si terranno alle 8.30 e 18.30. Infine, per la chiesa Cuore Immacolato di Maria, sita in località Mattine, è prevista una santa messa il sabato alle 17.30 e una alle 20.30 nei giorni festivi. Grazie. Grazie.